Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Fisco per tutti presso lo studio della Bella Associata e con i nostri esperti l'avvocato Lorenzo Della Bella e il commercialista Stefano Della Bella. Bentrovati. Oggi introduciamo un nuovo argomento correlato al corretto modo di fare impresa, vero avvocato? Sì, abbiamo introdotto qualche settimana fa ormai i concetti basi di impresa e di imprenditore, poi abbiamo suggerito quale secondo noi sarebbe la corretta via per intraprendere un'impresa, oggi parliamo del primo elemento fondamentale che deve essere sicuramente il business plan. Quindi cosa si intende con business plan? Per business plan si intende appunto piano imprenditoriale, si utilizzano espressioni qualche volta inglesi ma sono espressioni gergari dell'imprenditore, il piano imprenditoriale nasce appunto dall'idea di impresa, quindi quello che l'imprenditore vuole realizzare e si cominciano a verificare tutti gli elementi necessari per realizzare questa idea, quindi passare dalla teoria alla pratica, quindi analizzare quali siano i mezzi produttivi o commerciali necessari per costituire l'impresa, da lì si vanno a verificare quali siano i mezzi finanziari necessari e quindi le risorse di capitale che servono per portare a termine la prima fase dell'impresa e poi si cominciano a verificare quali siano gli effettivi momenti tipici della startup quando sia l'effettivo punto di pareggio, detto anche break even point. Una volta capito di cosa si tratta, può spiegarci la sua finalità? Il piano imprenditoriale tradotto in italiano ha due finalità principali, una interna, quindi serve all'imprenditore ad analizzare il suo piano industriale, verificare se sia o meno proficuo per lo stesso, produrre sforzi, energie e capitali per realizzare l'impresa oppure se sia meglio destinarli a investimenti più sicuri. Il secondo è un punto di vista esterno, quindi serve a mostrare all'esterno, quindi a chi sarà poi interessato a investire in questa azienda, quali siano le caratteristiche principali della stessa, come si svilupperà, quali siano gli elementi produttivi e in quale modalità e tempi si pensa e si progetta che questa impresa debba avere un ritorno economico. Col business plan poi è necessario fare un'analisi effettiva del mercato in cui ci si andrà a posizionare, verificare quali siano i potenziali concorrenti, detti anche player, verificare quali siano le loro caratteristiche, quali siano invece i buchi del mercato che possono essere coperti. Il business plan poi ha la necessità di essere costantemente aggiornato, non si può fare un business plan in partenza e lasciarlo lì a sedimentare, ma va costantemente ripreso e i fattori di calcolo di questo business plan devono essere costantemente aggiornati. Apposta per verificare mese per mese, semestre per semestre, se le approssimazioni che noi avevamo fatto all'inizio possono essere più o meno realistiche e possano essere più o meno tarate. La taratura del business plan è la parte essenziale e in tutte queste componenti il professionista che segue l'imprenditore assume un ruolo centrale. Dottore, come si imposta un business plan? Innanzitutto è indispensabile capire il contenuto essenziale di un business plan perché possa essere d'aiuto all'imprenditore e presentato a terzi soggetti. Il business plan è composto da due parti, una qualitativa e una quantitativa. La prima parte, quella qualitativa, riassume tutti gli intendimenti dell'imprenditore, quelli che ha fatto in privato con i suoi consulenti, li deve riassumere, quindi deve scrivere cosa vorrà fare, come intenderà a farlo. Questo serve a lui per ragionare sopra il business e ai terzi soggetti a quale verrà proposto per capire cosa intende fare. La parte qualitativa quindi riassume il progetto strategico dell'imprenditore, chi ne farà parte e qual è la progettualità imprenditoriale del soggetto. In questa parte è fondamentale poi per introdurre la seconda parte che è quella quantitativa. Nella seconda parte quindi vengono con una serie di prospetti indicate tutti quegli elementi economici e finanziari che aiutano a sostenere quanto detto prima. Quindi non si possono sostenere delle tesi se non vengono poi dimostrate numericamente. Il fine è quello di raccogliere in un unico documento tutti i dati precedentemente raccolti al fine di dare una presentazione professionale compiuta a un lettore sulla sostenibilità del progetto imprenditoriale. È un documento un po' complesso, è possibile farlo da soli? Si può fare tutto da soli, il consiglio è quello di crearlo unitamente a persone di fiducia, a persone qualificate, anche perché il linguaggio che viene espresso all'interno è tecnico e quindi ci vuole qualcuno di tecnico e serve entrambe le parti, l'imprenditore e il professionista per focalizzarsi correttamente entrambi, ciascuno nel suo ambito di riferimento, sul progetto che si sta per creare. Il concetto reale è che ci vuole un po' di malizia nella redazione di certi documenti, quindi una certa professionalità nella redazione, ci sono dei punti critici nella predisposizione del business plan che devono essere affrontati con qualcuno che li conosce. Quindi ci vuole sicuramente una forma e un contenuto adatto, non devono essere né troppo prolissi né troppo sintetici, devono essere semplici ed essenziali, possono essere misurati tramite diagrammi o rappresentazioni grafiche che rendono tutto molto più fruibile, eventuali dilungamenti tecnici si riservano ad allegati, apposta per non appresentare una prima lettura del business plan e quindi ci vogliono una certa di caratteristiche specifiche utili a renderlo più fruibile. Necessario, come si diceva prima, è la focalizzazione, quindi tradurre sulla carta il nostro progetto e dove vogliamo arrivare, qual è la quota di mercato che vogliamo assorbire o aggredire, quali sono le finalità dell'attività. Quindi tradurlo sulla carta significa scriverlo bene, scrivere anche tutti i numeri e i calcoli che ne seguono quindi tutti i calcoli di costo e tutti i calcoli di vendita. Questi ci servono per verificare in via previsionale, quindi approssimativa, quando gli uni e gli altri arriveranno a pareggio, perché è ovvio che nella prima fase dell'impresa i costi saranno maggiori, piano piano le vendite assorbiranno i costi fino ad arrivare a un punto di pareggio. Si dice che il business plan è un elemento centrale proprio perché quando noi andiamo a presentare un progetto a qualcuno dobbiamo presentarlo in una maniera credibile. Grazie come sempre per la disponibilità ai nostri esperti, vi ricordo che potete scrivere i vostri dubbi o le vostre domande all'indirizzo che vedete in sovrimpressione e rivedere la puntata sul sito www.ricorso-tributario.it. Saluto Stefano e Lorenzo Della Bella e ci vediamo settimana prossima con Fisco per Tutti. Arrivederci, a presto! Grazie a tutti!